Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dato che era da tanto tempo che non dipingevo più olio ho deciso di rimettermi alla prova con un autoritratto e di farvi vedere le diverse fasi del lavoro ovviamente ognuno ha la sua tecnica e il suo modo di lavorare vi faccio vedere come lavoro di solito io durante il video vedrete che io cambierò vestiti è perché sicuramente non riuscirò a farlo tutto in un giorno quindi ci metterò più giorni a completarlo quindi ovviamente mi cambierò perché mi piace essere una persona pulita insomma e soprattutto sarò vestita molto basta che sia perché appunto l'olio sporca molto vado alle ciance cominciamo come vedete sto facendo una cosa molto strana con la matita bene questo è uno dei metodi più veloci per prendere le misure se vi interessa poi ve lo spiegherò meglio in un video opposito bene ora possiamo cominciare con l'olio come vedete per prima cosa ho riempito la zona con i colori di base partendo dal colore più chiaro per poi scurire ora inizio coi dettagli le luci e le ombre grazie Stessa cosa per ogni diversa zona di colore, come ad esempio per i capelli. Ora disegno il mio tatuaggio e poi continuo a dare ulteriori luci ombre ai capelli. Nel secondo giorno ho continuato con la rifinitura dei capelli. Anche se ci ho decisamente preso troppo la mano ad aggiungere punti luce. Ora come vedete sto disegnando una specie di ametista, la mia idea era quella di far sembrare che ci fosse sul mio petto una spaccatura e che da essa si intravedesse l'interno, fatto appunto di ametista. Poi dopo mi farete sapere se ho reso l'idea. Anche qui il solito metodo. Prima stendo un velo di colore uniforme, dal più chiaro al più scuro e poi procedo con dettagli, luci e ombre. Grazie. Grazie. Ci tengo a dire che non esiste un metodo al 100% giusto o sbagliato, ma questo è il metodo che uso solitamente e con cui mi trovo meglio. E ora sfondo. Ultimo giorno. Rifinisco alcuni dettagli che non potevo sistemare ieri con lo sfondo non asciutto. Ok, non è proprio asciutto asciutto perché l'olio ci mette un sacco ad asciugare, però potevo intervenire. In realtà ho aspettato qualche ulteriore giorno che si asciugasse e poi ho passato una vernice finale con questa maschera molto fashion per evitare di indossicarmi. Bene, abbiamo finito. Che ve ne pare? Alcuni consigli finali. Mi raccomando, lavate bene i pennelli quando avete finito di usarli perché sennò saranno da buttare. E anche i tubetti, mi raccomando, state ben attenti che sia pulita la zona del tappo perché sennò sarà impossibile riaprirli. Importantissimo. Potrà sembrare ovvio ma se usate medium diluenti e cose di questo genere, mi raccomando, non buttateli nello scarico, nel lavandino, nel water. Assolutamente no. Io li travaso in un'altra bottiglia e poi li porto all'osa ecologica perché sono altamente inquinanti. Ma così come qualsiasi olio non va buttato nello scarico. Bene, ho fatto anche oggi il mio dovere civico. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate di questo disegno. Se siete interessati a vedere altri miei lavori come sculture e disegni, andate sul mio profilo di Instagram, vi lascio il link. E noi ci vediamo nel prossimo artistico video. Ciao! Ciao!